Si è aggiudicato il Premio Nazionale di Ricerca promosso da Fondazione QualiVita con il patrocinio di Banca MPS. Si tratta del progetto Life Green Ship presentato dal Consorzio di Tutela dell'Agnello di Sardegna IGP insieme all'Agenzia Agris Sardegna con il coordinamento del Dipartimento di Agraria della Università di Sassari che promuove azioni di divulgazione e dimostrazione a livello europeo con l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio della carne e del latte o vino del 12% entro dieci anni nel rispetto della sostenibilità. Il Consorzio dell'Agnello di Sardegna IGP è arrivato alla finale anche con Versoa sfiorando l'Amplen Progetto questo coordinato dal Professor Giuseppe Pulina che certifica la prima carne al mondo a emissioni zero Una novità mondiale che giunge dalla Sardegna grazie ad un'ampia partnership che oltre al Contas vede protagonista la società BS Green che opera nel recupero e nella valorizzazione dei prodotti secondari di origine animale in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari col diretti Sardegna del gruppo Fratelli Iba Abigroup e dei macellatori STC Food e Sardegna Carni. Il progetto ha certificato i primi agnelli di Sardegna IGP secondo i parametri internazionali certificazione di sostenibilità totale con obiettivo emissioni zero e benessere globale degli animali ma proseguirà ha detto ancora il Professor Giuseppe Pulina con la certificazione di neutralità della carne bovina suina e successivamente del latte uvino e caprino. Il premio alla prima edizione è stato consegnato a Roma nei giorni scorsi in occasione di Italia Next DOP primo simposio scientifico filiere DOP IGP al quale ha preso parte anche il Ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. È stato istituito per incentivare un dialogo efficace tra la ricerca e le aziende delle filiere DOP IGP. Una giuria di 15 esperti ha valutato oltre 90 progetti di ricerca sulle DOP IGP italiane e ha premiato quello che sta realizzando la compagine Sarda.